Il piano di Biasi del Nola, tua sensazione al termine della diretta? È stata una bellissima trasmissione, una bellissima puntata dedicata al Nola perché Nola lo merita, lo merita la piazza, lo merita i tifosi voglio ringraziare tutti a partire dal presidente Cicciallocca a chi lavora dietro alle quinte, come ha detto il direttore De Micco Cammini Sorrentino, Antonio Ruoppo, Andrea Foglia, Paolo quest'anno siamo stati tutti uniti per un unico obiettivo era quello di portare il 9 in eccellenza e ci siamo riusciti e quella era la cosa fondamentale Grazie mille